Laura Forgia Laura Forgia i fatti vostri contro il suo ex fidanzato Laura Lena Forgia con i fatti vostri fa concorrenza al suo ex . E' arrivato il giorno del tanto atteso debutto della bella Laura Forgia ai fatti vostri, dove affiancherà per tutta l'edizione 2017-2018 lo storico padrone di casa Giancarlo Magalli, l'unico ad averla spuntata ed essere stato riconfermato dopo una stagione non facile, che ha visto non pochi battibecchi screzzi tra lui e i colleghi Adriana Volpe e Marcello Cirino. . Toccherà dunque alla bella Laura Lena Forgia da oggi far compagnia ai telespettatori della seconda rete della TV di Stato, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, fino alla prossima primavera, in un'edizione dei Fatti Vostri parecchio rinnovata. . Ironia della sorte, la bionda showgirl si trova dunque ad andare in onda contro il suo ex fidanzato Andrea Mainardi, da anni nel cast fisso della prova del cuoco con Antonella Clerici. . Da oggi capiterà quindi spesso di vedere lo chef di Ilunga di Bergamo Surrai 1 cimentarsi nella preparazione di squisite prelibatezze e, contemporaneamente, Laura Surrai 2 al fianco di Giancarlo Magalli in quel dei Fatti Vostri. . Qualche anno fa, peraltro, la nuova padrona di casa del programma firmato e diretto da Michele Guardi ha partecipato ad una puntata della prova del cuoco proprio in coppia con Andrea Mainardi, con il quale ha ovviamente preparato un piatto in diretta. . I Fatti Vostri 2017-2018, Laura Forgia debutta oggi su Rai 2. . . Pur essendo la new entry dei fatti vostri, Laura Lena Forgia non è affatto nuova al pubblico televisivo, avendo partecipato qualche anno fa a Pechino Express, reality in onda proprio sulla seconda rete, la cui edizione 2018 è partita mercoledì scorso, sempre con la conduzione di Costantino della Gerardesca. . Laura Forgia si è però fatta conoscere dal grande pubblico vestendo i panni di una delle professoresse di Carlo Conti all'eredità, ma è passata anche per Temptation Island, il reality estivo ideato da Maria De Filippi. . . Con Laura Forgia, Magalli e l'altro new entry Joe di Tonno, inizia dunque un'edizione dei Fatti Vostri molto diversa rispetto all'ultima, a cominciare dalla scenografia, addio alla storica Piazza Italia, sostituita da questa edizione con un grande centro commerciale. . Nel cast anche Umberto Broccoli, reduce dalla sua estate a pick-up su Rai 1, il dog trainer Vieri Timosci, il veterinario Simone Ciliberti, il colonnello Massimo Morico e l'immancabile Paolo Fox. . Grande assente, invece, sarà Manila Nazzaro, alla quale era stato offerto uno spazio, ma che ha rifiutato per migrare sulla prima rete alla guida di un programma di moda tutto suo, in partenza prossimamente. . Appuntamento dunque con i Fatti Vostri, nuova edizione, fissato per le 1100 di oggi. .